Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Eccoci qua, amici telespettatori, amici di Space Famigliani, oggi è un giorno molto importante. Che giorno è? Oggi è il giorno in cui andremo di nuovo nella casa nuova. A guardare Emilio il Meglio. Esatto, a vedere i lavori che stanno proseguendo, i lavori che stanno proseguendo, la ristrutturazione che sta andando avanti. Vediamo a che punto è, perché noi nei prossimi giorni andremo a viverci. È vero, è vero, manca poco. Cioè mancano tipo uno, due, tre, quattro, cinque, sei giorni precisamente. Pochi giorni, ragazzi, pochi giorni e verremo a vivere in questa casa. E oggi però c'è un ospite con noi. Oggi viene il signor mammo con noi. Esatto. Ha portato mammo con noi, perché siamo tornati a prendere i bambini, come avete visto nello scorso video. Siamo finalmente tornati con loro. Camille l'abbiamo lasciato a casa perché ovviamente non era il caso, è molto piccolino. E adesso il piano è questo. Adesso entriamo nella casa, vediamo come procedono i lavori, guardiamo, eccetera, eccetera. Vi spieghiamo un po' la situazione, come dovrebbe diventare. E poi noi domani torniamo a casa e finiamo il trasloco. Quindi gli ultimi scatoloni, quindi vi porteremo con noi in questa fase finale del trasloco. Ci avete tenuto compagnia per mesi in questo benedetto trasloco. Finalmente ci siamo, siamo gli sgoccioli. Stiamo per salutare la vecchia casa e entrare nella nuova casa. Non essere triste, amore. Siamo un po' tristi questa la venita. Non posso nasconderlo. E va bene. Non posso nasconderlo. Ci affezioneremo anche in questa nuova casa. Non posso nasconderla. Quindi ragazzi. Comunque sì, ovvio, ci affezioniamo. Però come abbiamo già detto, lì abbiamo tanti ricordi. Vi ricordiamo tutte le date del tour perché noi siamo in tour in questo momento a firmare il nostro nuovo libro che potete prenderlo o fisicamente in libreria perché è uscito in viaggio con la Space Family oppure lo trovate anche su internet, su Amazon. E ci sono tutte le date del tour perché andiamo da adesso fino a fine aprile. Controllate tutte le date perché potrebbe essere che tu che stai guardando, c'è proprio la tua città. Magari siamo nella tua città e tu non lo sai, quindi ti raccomando, noi vi aspettiamo in tutte le date così finalmente dopo anni possiamo vederci, abbracciarci e firmare il nostro libro. Magari con tanti non ci siamo mai visti. Adesso faremo le date in tutta Italia, in dei posti dove noi non siamo mai andati. Quindi per tanti sarà la prima volta che ci vedono. È vero. È anche la nostra prima volta che li vediamo. Che vediamo loro. Quindi vi aspettiamo in tour ma adesso venite con noi nella nuova casa. Work in progress. Cosa sei? Sento un mammo. Sento un mammo. Mamma! Dove è l'amore mio? Dove è l'amore mio? Sono qui. Cosa c'è? Puoi scendere amore? Vieni amore, vieni dalla mamma. Vieni dalla mammi. Portati la macchinina. Vieni dalla mammi. Oh mamma mia, questo bellissimo boy girl, boyfriend, boy superstar. Mammo buongiorno. È ancora addormentato. È ancora tutto addormentato, mammo. Saluta gli spessi miliani. No. Di cosa stai facendo, mammo? Stai andando nella casa nuova? Ciao. Stai andando a vedere come fanno i lavori? No, non è di qua. La casina è di qua. È di qua, è di qua, vieni. È di qua, è di qua. Ti piace quella? Andiamo, andiamo. Andiamo. Andiamo nella casa nuova. Andiamo nella casa nuova. Andiamo, andiamo. Eccola mammi, entra dentro. Sì. Entra dentro. Scandoli. Andiamo, andiamo mammo. Scandoli. Appi, vai. Vai, vai. Ci siamo. Entriamo. Siamo entrati. Sì, siamo entrati e devo dire che il vostro rinforzo è servito perché Emilio sta più avanti di quanto io immaginavo. Si è mosso Emilio, cioè si è mosso il signor Emilio. Infatti si è entrata e guardate un po'. Ve la ricordate prima? Beh, guardate un po'. Tan tan tan. Guardate. Sta prendendo forma, sta prendendo forma. Allora, vi do un piccolo spoiler. Questo pezzo non è solo una mensolina. Qui ci andrà il camino. Qui tutto il camino. Qua ci sarà la tv. Qua ci sarà la tv. Qua ci metteremo un quadro dei gingilli. Vedete lì ci sono tipo tre buchi. Là ci andranno tre lucini che illumineranno tipo il castello della Disney. Esatto. Qua qualcosa altro. E questa parte qua di parete. Ci andrà la Brunadale a Brunadale. No, ma lì non ci sarà la parete ma ci saranno le pietre e ci sarà questa pietra qua. Bellissima, guardate questa pietra. No, no, la devi frappegli. Fagliela vedere sul muro. Vai sul muro, mettila sul muro. Così ce la immaginiamo. Bello. Eh? Mammo ti piace? Sì? Sì. Ok, allora Emilio può procedere. Sì, ma guarda fuori sotto la luce del sole. Vediamo. Mammo fai attenzione eh. Guarda quanto sbrilluccica, non so se rende, ma è tipo brillantinata. Si, si. Si vede? Ah, questa qua comunque ragazzi è la nostra palma. Questa qui. Poi dovremmo dargli un nome alla nostra palma. È il marmo di Carrara. Eh? Guarda come sbrilluccica. Che pietrona. Guarda. Guarda come brilla. Si vede? Sì, si vede. Cosa c'è mamma? Via, via. Vada via. Guarda che bella palma che abbiamo. Guarda che bella palma. Bellissima. Guarda, la nostra palma. Quindi qua i lavori stanno procedenti. vedete qua sopra ci saranno tutti i faretti. E adesso. Tutti i fari che illumineranno la nostra faccia. Inquadriamo Emilio e scrivete tutti in questo momento bravo Emilio, vai. Tutti nei commenti. In questo momento scrivete che bravo Emilio. Fate pubblicità e chiamatevi. Grande. Il numero e chiamatevi. Grande. Faccio i lavori meravigliosi. Grandissimo. E lo scontro lo fa solo a me però. Fa solo a me. Solo a me. Guardate qua vanno avanti i lavori, guardate. Qua siamo immersi nei teli. Teli dappertutto. Teli dappertutto. La nuova cucina di Sara. Amore mettiti qua. Vediamo come mi farai i langorini. No, mettitili. Mettitili. Perché questo qui diventerà rosso. Questo diventerà rosso. Mettiti là. Fai finta di cucinarmi qualcosa di buono amore. Ok. Mi cucina. Il video che farò di cucina. Eh, qua. Guardate che bella. Che bella location. Anche le foto posso fare a me qua. Sì, mentre cucini mi fai le lasagne lì nel forno. Bello. E' bello la danza della cucina. Bello la danza della cucina. Però a casa raga vi faremo poi il vero home tour. Perché la cucina ha le parti rosse. Ah sì. Perché qui abbiamo il bagno con tutta la cosa nera e il rosso. Questo qui è il design. Questo qua. Guardate le tazze con tutte le guardate. Eh, chi è che ha delle tazze così belle? Comunque vi faremo il vero home tour quando la casa ovviamente sarà finita. Vi mostreremo ogni, ogni, vi mostreremo ogni piccolo pezzo di questa casa. Come ad esempio il mio bellissimo barbecue qua fuori dove farò finalmente, tornerò a fare le mie carni, le mie grigliate che tanto amo fare. Buongiorno amore. Procediamo. Vediamo cos'altro. Oh che bello. Guarda, guarda che bello. Vero? Non c'è due tente così. Guarda che bello. Non c'è proprio questa. Non c'è nessun senere. Guarda che bello, questa è qua. Bellissima. Guarda, cavi scoperti. Dov'è il signor Mamo? Mamo! Mamo è giocato. Ti stai ambientando, Mamo? Sì, sì, è giocato. Vuoi aiutare Emilio a fare i lavori? Eh sì. Lo assume. Che sta facendo? Non lo so così. No, vuole chiudere. Vuole chiudere, lo so. Ma c'è sta cosa di tutte le volte. Ma va bene, non è... Ma piano. Ma qua abbiamo fatto pure tutto questo, dove ci sarà poi la striscia LED, ma adesso non si capisce. Cioè, si capirà poi. Ma qua ci sarà tutta la striscia LED. Cosa c'è Mamo? Lo sai cosa ci sarà qua? Il cammino con il fuoco. Sta soffiando perché c'era il fuoco. Ah, ecco. Lassù c'è la camera di Mamo e Kevin. Ma non ve la spoileriamo ancora. Amore, fra un poco saremo in questa casa. Fra un poco. Fra un poco saremo in questa casa. Fra un poco, guardate che cane gigante abbiamo la tua. Vuoi inquadrare il cane del vicino? Dov'è il cane del vicino? Non puoi capire. Questo qua davanti. Abbiamo un cane rosso. No, no, quello. Ce ne abbiamo qua? Eh. Ti fa paura. Guarda. Pazza, che cagnolone che abbiamo come vicino. Incredibile. Fra un po' vivremo qui, ragazzi. Ricordatevela così. E poi quando sarà tutta finita. Ma vorrei fare una clip qua così. Adesso così e poi. Vum. Quando sarà tutta finita. Qua oggi abbiamo pure gli aiutanti. Il figlio di Emilio. Ciao. Il figlio di Emilio. Single? Sì, sì. Oh! Grande annuncio, signori. Abbiamo il figlio di Emilio single. Prego, prego. Facciamo un po' più. Cerchiamo, ragazza, il figlio di Emilio. Si chiama? Vittorio. Vittorio. Quanti anni hai? 19. 19. L'apparatore si impegna, studia, vi può risolvere le cose a casa perché non mi fa la morina. C'è Vittorio. Donne. Non c'è il problema con me e con Vale. Capito? Donne, è arrivato Vittorio. È arrivato il vostro Vittorio. Via nel casting, mi raccomando. Anche per il papà il casting. Anche per il papà il casting? Anche il papà, anche mio. Mamme, mamme. Tutto a fare. Mi fa tutto a casa. Tutto gratis perché siete insieme. Tutto gratis, sì. bellissimo, dei commenti sono aperti i casting per Emilio e Vittorio anche io comunque anche Mamo si trova il mio amico più bello del mondo fai la sfilata vieni Mamo fai la sfilata si cercano bambini di due anni mammo fatti vedere guardate guardate, guardate con la maglia dei dinosauri fai la sfilata, vedi a mamma con la maglia dei dinosauri ciauri mio cosa c'è? stai facendo vedere la tua maglia dei dinosauri? Mamo, ma lo sai che questa sarà la tua nuova casa? c'è la nuova casa questa è la tua nuova casa questi signori stanno facendo le cose per la nostra casina Mamo vuoi andare a vedere la tua camera? dai andiamo a vedere la camera dove sarà insieme a Kevin andiamo a vedere la camera di Mamo andiamo a vedere la camera andiamo, andiamo, andiamo facciamoli stare loro che se no finiamo a Pasqua andiamo su, andiamo su andiamo su andiamo su mamma, andiamo su andiamo a vedere la tua camera saliamo su, non vi spoilerò troppo perché come vi abbiamo detto nel long tour poi vi mostreremo tutto ma adesso comunque vi portiamo nella camera di Martino e Kevin che ovviamente è vuota e poi la riempiremo ma questa sarà la camera dove staranno i pezzi mamma mia quanto vai veloce mamma mia quanto vai veloce vieni nella tua camera ma mamma è veloce senti che è convincente che non c'è niente la tua camera di Martino e Kevin la tua camera Mamo questa è la tua camera vuota eh sì guarda questa è la tua camera cosa guarda di dietro? mi hai giro con la mano dietro non invece guarda così perché mi hai giro con la mano dietro? mamma guarda dalla tua camera vedrai la palma la palma la palma e qua nella camera di Mamo e Kevin vi diciamo un attimo come verrà solo questo spoilerino lì ci sarà il loro super armadio bellissimo qua il lettone con lo montessore di legno che abbiamo nell'altra casa qui con tutta una carta da pareti molto molto bella qua l'armadio e qua tutti metteremo tutti i giochi tutti i giochi dappertutto mamma mamma questa è la tua cameretta Mamo dove andate? no non vi spoileriamo la camera di Mamo e Papà non vi spoileriamo la camera di Mamo e Papà qui c'è le guassotti? mamma piano sono le scale vuoi scendere? va bene mamma mamma vuole scendere? scendiamo 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 mamma vieni anche tu mamma vieni scendiamo qui scendiamo 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 piano piano scendiamo dalle scale che bella che bella la nuova casa eh? qua mettiamo un bel cancello così non sali e scendi in continuazione che bello basta non vi spoileriamo tutto basta 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 spoiler basta spoiler long tour lo faremo breve ok noi siamo dentro c'è anche un cagnolone qua davanti che sta abbaiando e qui c'è Pesso che già sta esplorando il territorio vero? stiamo esplorando vai sull'erba vai sull'erba amore vai 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 bravo cosa c'è? hai trovato un fiorellino? porta mamma un fiorellino me lo porti un fiorellino? cogli cogli un fiorellino per mamma devo venire con te? amore anche sull'erba vai andiamo insieme vieni cosa c'è? cosa hai visto? cosa hai visto? questa pianta enorme questa bellissima palma bella bella un salto altro salto se non perdiamo l'equilibrio su un piede su un piede guarda mamma su un piede vai su un piede un piede così 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 alza il piedone rimani in equilibrio in equilibrio ah lo fai qui? vai in equilibrio su piedone se il piedone non riesce ma dove vai? le ombre alza la manonna dell'ombra alza la manonna dell'ombra tocca testa ombra tocca testa ombra tocca testa ombra tocca la testa sull'ombra cosa fai nel tuo giardino? eh esplora eccolo ciao è il tuo nuovo giardino è il tuo giardino vieni qua salta 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 bravo salta bravo salta qua salta ti fa saltare mamma? bravo mamma dimmi amore mamma cosa? chavi 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 adesso dice chavi non dice qui dice chavi un romano un romano un romano un romano romano un romano un romano si ah cogli un fiore per mamma prendi un fiorellino mamma come no non prendi i fiorelloni mamma vorrebbe un fiore Mamma ma vorrebbe un fiore Non mi prendi il fiore E va bene non mi prendi il fiore E luce fu Cosa c'è? Che è successo? Mamma che stai facendo? Che stai facendo? Piano Amore abbiamo acceso le prime luci in casa Hai visto? E luce fu E pensa che qua c'è una striscia led Sì Tutta intera Vabbè li lasciamo lavorare perché sennò non entriamo in casa più Ciao ragazzi grazie mille E ci sentiamo a volerci Casting sempre aperti Ciao Ciao casetta ci vediamo molto presto Ciao 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 Fali con la manina Ciao 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 Andiamo? Dai andiamo andiamo Tanto torniamo presto mamma Questa è la tua nuova casa È la tua nuova casa Mamma è la tua nuova casa È tua Tua Di tua proprietà Se possiamo veniamo con te Se no è casa tua Inviti i tuoi amici Fai i party Miam miam Tua tua Miam miam Sì Miam miam Ok ragazzi Noi adesso salutiamo Emilio Oddio ce lo so E il figlio Emilio e il figlio Mi raccomando i casting sono aperti I lavori procedono Fra più o meno una settimana Faremo il trasloco definitivo Nel senso porteremo tutto E poi verremo a viverci Non mi sembra ancora vero Perché non Perché non mi sembra vero È perché Tanto che aspettiamo Dici Tanto tempo che aspettiamo E finalmente il giorno Tanto atteso Sta arrivando Anche perché quell'altra L'avevamo presa in una settimana Sì e qua Comunque stiamo facendo i lavori Quindi ci stiamo mettendo Un po' più di tempo Però Ah ma dobbiamo cambiare Anche questa porta No allora Questi lavori che stiamo facendo Sono i primi lavori Che stiamo facendo Poi faremo tanti altri lavori Che abbiamo già progettato Ci sono tante cose da cambiare Da ristrutturare nella casa Ma le faremo nel corso dell'anno Questi sono i primi lavori Che facciamo Prima di venirci a vivere Beh l'abbiamo già fatto vedere L'altra volta Ma questo è il campo da calcio Dove giocherò Con Momo e Kevin A tre passi da casa Faremo tante partite qui Facciamo una crossbar challenge Qui E subito dietro C'è il campo da tennis Mamo Il nostro campo da calcio Il campo da calcio Mamo Qua giocheremo a calcio Con tuo fratello Giocheremo a calcio qui Mamo Io tiro la palla Pum Dov'è la palla Dov'è la palla Un conno Eh sì si fa qua gol E anche di là si fa gol Giochiamo Io e te contro mamma Io e te contro mamma Andiamo Vai vamo Io e te contro mamma Io e te contro mamma Sì Sì Guarda che bello questa amore è praticamente come se fosse nostro C'è nessuno che viene qua Solo noi Eh sì Abbiamo il nostro campo privato da calcio Eh sì Che figata è Anche da tennis Anche da tennis Che figata è Abbiamo anche là il tennis calcio E palla a volo Amore possiamo fare le sfide di palla a volo Sì ma anche il parco per i bambini Eh il parco anche per i bambini Sì e per Stella Mora, qua facciamo una sfida di pallavolo io contro di te Doviamo pallavolo con mamma C'è la rete, hai visto? C'è la rete La rete C'è la rete, Anna Pim, 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 pim Mamma Siamo così Andiamo Andiamo Bene, dal nostro campo da calcio Vi salutiamo Anche questo video giunge al termine E ci vediamo domani Con un prossimo video Non è domani Non so se sia domani, non credo Perché adesso, ragazzi, se siamo un po' discontinui con i video potete capire C'è il trasloco, abbiamo un sacco di cose da fare Siamo in giro per il tour Quindi capiteci Quando ci sistemeremo per bene Ritorneranno i video lunedì, mercoledì, venerdì Adesso li faremo quando escono Voi dovete sempre rimanere connessi con noi Iscrivetevi al canale, mettete mi piace Qua ci sono tutte le date del tour Ci vediamo nel tour Smettila di farmi le facce E ci vediamo presto per i video finali del trasloco Esatto Ciao No, chiude Mamo Saluta Mamo Vatti 5 lontananza Ciao Qua Stai portando una pietra Grazie, cuore mio Baccio Baccio Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti